Giovedì 9 gennaio alle ore 20 vi aspettiamo numerosi alla Pala Panini per la prima partita del sorriso. In campo noi ragazzi della Lugio Volley Modena contro le campionesse d'Italia della Rebecca Nord Meccanica Piacenza per una partita di beneficenza a favore dell'associazione Ridere per Vivere Emilia Romagna Ollus. Giochiamo insieme per regalare un sorriso ai bambini. Dai anche tu il tuo contributo per un grande gesto di solidarietà. Non mancate, vi aspettiamo numerosi. Grazie. 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 Grazie.